Occhio al pallone per il possibile vantaggio, grande intervento del portiere. Occhio al corner, è una girata di testa che ha messo a dura prova il portiere, l'ha tolta dalla porta con un intervento da campione. Passaggio importante del match, ed è gol, trasforma con sicurezza dal dischetto. Aumentano l'intensità del pressing, pubblico vorrebbe il tiro, il gol del pari che cambia anche psicologicamente la partita. Attenzione perché questa può essere l'azione che vale il vantaggio. E c'è il gol, attenzione, tornano in vantaggio. Attenzione perché questa può essere l'azione che vale il vantaggio. E c'è il gol, attenzione, tornano in vantaggio. Ottima la parata. Se getta in avanti alla disperata ricerca del pareggio. Stulaz, è arrivato un pareggio pesantissimo, il giusto premio per i loro sforzi. Stulaz, è arrivato un po' di loro sforzi.